E' l'ipotesi che si lascia cadere di spalle dopo di maniera appeso. Questo è il furgoncino del reparto investigazioni scientifiche dell'arma dei carabinieri che oggi è chiamato a dare delle risposte sulla vicenda di Davide Rossi. Si farà una simulazione della caduta di Davide da quella finestra, terzo piano del palazzo, per capire se Davide si sia lasciato andare da solo oppure qualcuno l'abbia lanciato nel vuoto. Subito dopo la caduta di Davide sarebbero state fatte delle operazioni che a giudizio di qualcuno avrebbero inquinato la scena. Quella finestra è quella dove c'è l'ufficio di Davide. Sono stati fatti rilievi lì ma anche sul piano superiore, al quarto piano, perché vogliono verificare che Davide possa essere volato giù anche da quella finestra. Quindi se così fosse il giallo sarebbe ancora più fitto perché quello non era l'ufficio e quindi è probabile che una mano terza possa averlo gettato nel vuoto. Maria Grazia San Rocco, ciao Maria Grazia, buongiorno a Professor Rossi, grazie per essere in diretta con noi. E poi Giovanni Terzi che ha realizzato un'intervista, ciao Giovanni, proprio al Professor Rossi. Buongiorno a tutti. Insieme, grazie, oggi parleremo di questa intervista che hai fatto e possiamo farlo attraverso il diretto interessato. Maria Grazia, a te. Vai. Ecco come dicevi Eleonora, qui accanto a me c'è il Professor Ranieri Rossi che è il fratello di Davide Rossi. Naturalmente questa è una cosa che va avanti da otto anni perché ricordiamo che Davide Rossi è deceduto a marzo del 2013. Otto anni in cui la famiglia cerca disperatamente di avere delle risposte. Perché questo? Perché non ha mai creduto al suicidio, al fatto che Davide Rossi si sia lasciato cadere da quel terzo piano, così come sostengono invece le procure, le procure che hanno indagato e che hanno archiviato il caso per ben tre volte come suicidio. Ma perché il Professor Ranieri dice non si tratta di suicidio? Perché dice analizziamo, andiamo ad analizzare tutti gli elementi, quegli elementi che creano, che creano dei dubbi, che ci fanno pensare a qualcos'altro. Tanti dubbi, tanti dubbi a partire da quella caduta. Dobbiamo ricordare, prima di dare la parola al Professor Ranieri, che a marzo del 2020 è stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta che dovrà far luce su quello che è accaduto proprio quel giorno del 2013. Dunque attraverso questa commissione d'inchiesta si cercherà di far luce. Ma quali sono i punti oscuri che voi state cercando di chiarire e che avete tentato di chiarire attraverso anche delle perizie? Essenzialmente sono quelli per cui era stata aperta la seconda indagine. Ovvero, la seconda indagine, c'è stata una prima indagine, che è stata conclusa con idee, diciamo, ricostruendo quello che era successo in maniera illogica. Ma cosa non mi convince, professore? Allo stato attuale, cos'è che non mi convince? Semplicemente sono, grossolanamente sono due cose, ovvero, che sono sempre le solite, come dicevo, per cui sono state aperte la seconda indagine, cioè la modalità di caduta e le ferite. Ecco, allora, vediamole una per una. Che non sono state spiegate, nella prima e nella seconda indagine. Allora, vediamole una per una, perché abbiamo delle grafiche insieme. La prima, eccola qua, sulla misteriosa morte di Davide Rossi, è la caduta senza rotazione. Poi, Giovanni, tu quando vuoi intervenire, intervieni. Intanto commentiamola con il professor Rossi, questa. Prego, Maria Grazia. Ecco, questi sono gli ultimi due fotogrammi della caduta, estratti dal filmato della telecamera di sicurezza, che mostrano chiaramente come durante la caduta non ci sia alcuna rotazione del corpo. Questo va immediatamente in contrasto sia con le conclusioni della prima inchiesta, sia della seconda. La prima inchiesta, vabbè, era assurda perché diceva che Davide si era messo seduto sulla sbarra di protezione, cioè sulla finestra, e lasciato andare indietro. E questo comporta evidentemente una rotazione, ma come fa un sub quando si getta in acqua, ruota e finisce lontano. Cosa che non c'è stata, quindi non si può parlare di suicidio. E non si può parlare di ricostruzione fatta a quel modo, cioè non può essere andata a quel modo. Nella seconda indaggia invece ricostruisco, dice che lui si è calato. Sì, le finestre, le vede lei professore queste grafiche? Ecco, sì, sì. A ritorno? Ok, la finestra dell'ufficio. Le vedo. E la finestra superiore invece al quarto piano. La finestra davanti un fan coil e una sbarra di protezione. E loro dicono che Davide ha superato il davanzale, tra l'altro non danneggiando quel fan coil, che invece un testimone sentito tra l'altro in commissione inchiesta dice che l'avrebbe sicuramente rotto perché c'è una grata di plastica. Comunque è salito lì sopra, si è calato tenendo la sbarra e poi si è lasciato andare. Comunque anche in questa modalità il corpo sarebbe ruotato perché la sbarra interna al davanzale, il busto esterno, quindi il baricentro esterno. Però vediamo anche un'altra foto, la finestra superiore che al quarto piano non presenta alcuna sbarra. Allora noi per anni abbiamo studiato il caso nel senso che come è possibile, lui aveva una serie di ferite al corpo, aveva delle schegge sull'addome, aveva la camicia fuori dai pantaloni, dei graffi sull'addome, una serie di ferite per cui ci indicavano che il corpo aveva strusciato sul davanzale. Ad esempio questa... E quindi com'era possibile? Sul polso ci sono due lesioni e un ematoma. Anche la camicia, lei stava facendo riferimento alla camicia, anche la camicia bucata e strappata indicherebbe i segni di un'aggressione. Eh, la camicia bucata e strappata e quando cade è fuori dai pantaloni. Ora io la camicia ce l'ho fuori dai pantaloni ma spesso la porto così. Davide non lo faceva assolutamente mai, tantomeno lo faceva in ufficio sul lavoro. Quindi com'è che è successo tutto questo? Cioè com'è possibile che sia finito sul vicolo una camicia strappata e fuori dai pantaloni? Beh, la ricostruzione è che ci sia stata. Ha sia un'aggressione sia un passaggio sopra la finestra in posizione prona strusciando sulle strutture della finestra, in questo ha raccolto sull'addome delle schegge di legno, del materiale della finestra, ha dei graffi, ha degli ematomi che indica, ha anche un taglio nella mano che un taglio nella mano probabilmente diriva dal fatto che lui si è attaccato a uno dei fili antipiccione che ce l'hanno tagliato, è un filo d'acciaio che gli ha tagliato la mano. Però quell'ematoma sul polso fa pensare ad una colluttazione precedente? Questo ovviamente fa pensare ad una colluttazione, ma semplicemente, ma è ovvio, perché c'è un ematoma e tre zone disepitelizzate, cioè due lesioni diverse. Nella ricostruzione che hanno fatto gli inquirenti hanno detto che questo deriva quando è caduto l'orologio si stampa sul polso, ma si stampa sul polso avrebbe fatto solo una lesione, ma questo è ovvio. Quando è caduto dobbiamo dire che suo fratello probabilmente non aveva l'orologio al polso? Non aveva l'orologio, ecco, si vede bene da questa figura in cui sappiamo dal video e dall'autopsia che lui impatta il suolo con la parte destra della mano sinistra dalla parte del pollice e l'orologio, come si vede bene lì nel cerchio, ha una lesione a ore 11, qui, io guardate, ho lo stesso orologio che aveva lui, la lesione, l'ammaccatura è qui sopra. Quindi è ovvio che se uno batte dalla parte del pollice e l'orologio ad un'altra parte l'orologio non stava attaccato al polso, ma questo ce lo dice anche alcune indagini abbiamo fatto con dei tecnici che siccome il cinturino è staccato dall'orologio, completamente staccato e da una parte la cassa è l'orologio e dall'altra cinturino. Com'è che si è staccato? È difficile che si stacchi impattando una volta caduto, ma probabilmente si è staccato prima da una parte durante la colluttazione e poi è stato buttato dopo e si è staccato l'altra parte durante l'impatto. Oltretutto guardiamo un'ultima cosa, quelle lancette, a parte è inquietante che indicano l'8,20, quindi non l'orate. Non è l'orate in cui è caduto il suo fratello, perché ricordiamo che la caduta mi permetta, la caduta è venuta alle 19.43. Esatto. Un'altra cosa, ci sono due lancette completamente staccate e quello è un orologio sector expander molto robusto, quindi se fosse caduto insieme il corpo, il corpo avrebbe attutito notevolmente la caduta. Giovanni, puoi intervenire? Ancora più importante. Prego. Terzi. Ora, effettivamente quello che sta dicendo il professor Rossi è molto più interessante dei miei commenti. Io vado alla sintesi perché credo che poi abbia anche altre cose da raccontare. Io so solo che tutta una serie di risultanze stanno emergendo con chiarezza nella commissione parlamentare di inchiesta, che a quanto mi voci, che mi sopraggiungono, dà abbastanza criticità su come è stato svolto, diciamo così, criticità su come è stato svolto il lavoro da una parte degli inquirenti. Quindi la cosa più triste che rappresenta... Giovanni, non ti si sente bene il tuo audio? Stavi parlando delle indagini? Vediamo se magari riusciamo a risolvere. Allora, intanto, il professor Rossi, mi scuso, mandiamo un attimo un'altra immagine. Eccola qua. Sulle scarpe si è depositata una patina polverosa presente anche sotto la suola. Forse sono i segni dei lavori dell'ufficio al quarto piano. Dunque, partiamo dalle certezze. Davide sicuramente non aveva le scarpe sporche perché non era... non era il tipo di andare a lavorare con le scarpe sporche in quel modo. Questa patina non può averla presa fuori perché quel giorno pioveva. E quindi sicuramente l'ha raccolta dentro il Monte dei Paschi. Dove l'abbia raccolta non si sa. Probabilmente durante una colluttazione è probabilmente nell'ufficio al piano superiore perché abbiamo diverse testimonianze che c'erano in corso o c'erano stati da poco dei lavori o di imbiancatura o comunque di rifacimento di voi l'ufficio. Ecco, questo è quello che vediamo dalle scarpe. Sì, sì, vai, vai, Mary. C'è anche un'altra particolarità delle scarpe, dobbiamo dire, professore. La punta di queste scarpe è leggermente consumata. Sì, la punta è consumata ma quello ha una sua logica perché probabilmente mentre veniva calato o buttato dalla finestra, nella nostra ricostruzione lui ha cercato di resistere, questo è ovvio, e ha strisciato con le scarpe sul muro esterno. Questo probabilmente la punta di quelle scarpe se l'è rovinata in quel modo. Per questo dicevo che sarebbe logico andare a cercare, come è stato fatto, delle tracce sul muro esterno, ma non sul terzo piano, sul quarto piano. E quelle tracce probabilmente, siccome è un polimero nella gomma, forse ci sono tuttora. Lei dice, andate a cercare perché potrebbe esserci qualcosa. Ecco, Maria Grazia, poi io credo che dovremmo avere altre due digrafiche. Poi quelli sono tutti i testi che erano stati fatti dalla finestra, no? No, ce ne sono altre due. Una è la disposizione degli oggetti sulla scrivania. Esatto. E eccola qua. Poi un'altra invece era la sedia che è stata spostata e girata. Allora, parliamo della disposizione... Poi la giacca è quella che è composta e non buttata. Allora, raccontiamole tutte queste tre grafiche che stiamo mostrando, partendo dalla disposizione degli oggetti sulla scrivania. Quello che sappiamo noi, e che è quella che è una certezza, è che abbiamo un video del primo che entra in quella stanza, che è il sovrintendente Marini. Fa un video col suo cellulare e lo deposita nel server della questura. Paragonando questo con le foto che ha fatto la scientifica, arrivata molto tardi, tra l'altro, verso le 1, 4 ore dopo, queste foto, quelle che abbiamo noi. Peraltro abbiamo saputo che ne abbiamo solo un poche, perché la metà di queste non sono allegate al fascicolo, comunque a noi non ce ne hanno date. E addirittura nella commissione dell'inchiesta abbiamo saputo che mancano pure due video che il vicequestore della scientifica ha detto di aver filmato e ha legato agli atti e non c'è. Comunque, da quello che abbiamo noi si confrontano queste foto e si vede che sono stati spostati un po' tutti gli oggetti della scrivania e che non so se sono fatti, non si apprezza nemmeno se manca qualcosa, ovviamente, quindi qualcuno ha toccato tutti gli oggetti, qualcuno ha toccato gli sportelli degli armadi aperti, la giacca, non lo so, l'ha rimessa a posto, ma mi immagino abbia cercato qualcosa, non lo so, ha acceso il computer. Insomma, ha toccato un po' tutto. Dobbiamo ricordare anche l'audizione avvenuta recentemente, il colonnello dei Carabinieri, il colonnello Aglieco, è stato sentito proprio nell'ambito di questa commissione e ha riferito che alcune persone sono entrate all'interno di quella stanza e quella stanza potrebbe essere stata inquinata, insomma potrebbe essere stata inquinata e inquinato il luogo in cui è avvenuto il tutto. Che sia stata inquinata è ovvio, non c'era bisogno, lo dice il colonnello Aglieco, perché lo dicono le foto, quindi che sia stata inquinata, che sia stato svuotato il cestino della carta dove c'erano i famosi bigliettini, i fazzolettini sporchi di sangue, che poi sono stati distrutti tra l'altro. Mai analizzati. Mai analizzati. E questo lo sapevamo già dalle foto, non c'era bisogno e lo dicessero otto anni dopo. Certo ora fa più scalpore perché lo dice in commissione d'inchiesta un colonnello dei Carabinieri. Un colonnello dei Carabinieri. Non sappiamo ancora bene chi c'era lì dentro, lo vedrà la commissione d'inchiesta questo. Però una cosa certa, che non è stato rispettato, non è stata rispettata la più semplice procedura, che è semplicissima. Io la devo ringraziare per il modo pacato e calmo che lei ha nel raccontare punto per punto tutti questi elementi, perché non credo da un fratello sia facile parlare di questo e vivere tutto quello che avete dovuto vivere voi, la vostra famiglia, la figlia di Davide, la moglie di Davide. Credo che veramente non sia semplice, per cui io la ringrazio di essere intervenuto con noi. Io volevo sentire Giovanni Terzi. Non so se... Giovanni? Sì, sì. Sentivo sempre, sì. Sentivo. La cosa che è più rattrista in questo momento è che sono passati otto anni, perché tutte queste cose erano agli atti. Cioè non si sta praticamente dicendo nulla di nuovo. Era tutto agli atti e tutto è stato, secondo me, sottovalutato. Che poi ci fosse un dolo o non un dolo sulla sottovalutazione, questo non è il mio compito dirlo e definirlo. Certo è che il dato oggettivo è che tutte le cose che stanno raccontando è che il professore Ranieri... Non va l'audio. Giovanni, mi dispiace che non vada l'audio. Comunque, professore, io volevo lasciare a lei diciamo una conclusione. Questo è un caso che meriterebbe ore e ore di messa in onda per tutto quello che sta emergendo. Che cosa si sente di dire oggi, professore? Io credo che se si arriverà a una verità sarà semplicemente perché verranno analizzate, come diceva Giovanni Terzi, le cose che già ci sono e sono state ignorate. Quindi guardiamo bene le foto, guardiamo bene i filmati, sentiamo le testimonianze, raccogliamo quello che c'è, che tante cose purtroppo sono state perse e arriviamo a una verità se è possibile. Perché lo chiede la famiglia di arrivare a una verità, ma un po' lo chiede tutta la città di Siena che dopo tutto quello che è successo, le vicende del Monte di Paschia, anche lasciare aperta questa storia che ha segnato brutalmente la storia di Siena, lasciarla aperta con persone che pensano che sia un suicidio, persone che pensano che sia un omicidio è la cosa peggiore. Di sicuro un po' tutti a Siena pensano una cosa, che le indagini siano state fatte male. Ecco, ora c'è la commissione d'inchiesta, vediamo a quali conclusioni arriverà e cerchiamo di essere tutti convinti di quello che è successo, dimostrandolo con i fatti. Grazie, la ringrazio. Chiaramente in ogni momento in cui voi vorreste intervenire, noi ci siamo, siamo a vostra disposizione. Un saluto e un ringraziamento anche alla nostra Maria Grazia. San Rocco, ciao Maria Grazia. E Giovanni, poi magari interverremo, racconteremo anche questi fatti insieme a Giovanni quando sarà in studio, perché purtroppo oggi il collegamento non funzionava bene.